Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale Allora, oggi sono qui in questa postazione per il semplice fatto che è sera È la sera prima del giorno in cui vedrete questo video Ok, non lo so, comunque lunedì Questo video uscirà martedì invece che mercoledì, quindi domani Perché, non so se sapete, ma domani 13 ottobre e mercoledì 14 ottobre C'è l'Amazon Prime Day Quindi, prezzi scontatissimi sui prodotti Amazon Prime Io, avendo Amazon Prime, ho deciso di fare questo video E di farlo uscire giusto appunto la mattina dell'inizio di questa opportunità Non saprei come chiamarla, di questi sconti, di questi saldi Perché voglio consigliarvi alcuni libri, a parere mio, costosi E alcuni io non li ho Domani effettivamente vedrò se ci saranno questi sconti Io spero di sì Perché vorrei appunto acquistarne alcuni Che non ho e che costano parecchio in libreria E vorrei appunto, a parere mio, consigliarvi quelli più costosi In modo che magari potrete sfruttare questa opportunità Questi saldi Allora, ho qui Il mio iPad Dove andremo appunto a vedere i prodotti Che vi consiglierò I miei consigli Allora, innanzitutto vorrei consigliarvi Ovviamente sono libri che io vi consiglio Se voi siete interessati A comprarli Questi libri Qui Quindi quelli di Ippocampo Penso che voi li vediate però Questi libri di Ippocampo Che per ora ci sono soltanto La Bella e la Bestia Pinocchio Il Giardino Segreto Alice nel Paese delle Meraviglie Oltre lo Specchio E il Libro della Giungla Ve li consiglio per Quale motivo? Ve li consiglio Perché sono libri Estremamente costosi Quindi costaranno tutti 28,90 O 29,90 Quindi 30 euro Adesso oltretutto Mi sembra il 5 novembre Comunque a novembre Usciranno gli altri due Che sono la Sirenetta e Peter Pan Che io andrò ad acquistare Ovviamente senza sconti Perché Amazon Prime Non ci sarà già più Però Sono molto costosi Quindi se siete interessati Ma siete sempre stati frenati Per il costo Magari domani Li sconteranno Quindi potrete andare ad acquistarli Poi Altro libro Che io non ho stavolta E che vorrei Acquistare L'ho sentito parlare molto Di questo libro Deve essere anche Piuttosto inquietante Io non sono una Che legge libri dell'orrore O libri inquietanti Però sono molto incuriosita Da questo racconto Da questo libro Perché non è un racconto È molto Molto spesso Come libro Per un semplice motivo Perché Sono in quel periodo Dove voglio leggere Fantasy E libri un po' Diversi Diciamo Da quello che io leggo Di solito Quindi uscire un po' Dalla mia comfort zone E come l'ho detto Vorrei uscire un pochino Da quello che leggo Di solito E quindi Il libro che Vorrei acquistare Se ci saranno Questi sconti Perché anche questo Questo è ben 29 euro Su Amazon È già scontato A 27,55 È Casa di Foglie Adesso Ve lo faccio vedere meglio Questo è il libro Casa di Foglie Di Mark Danielewski Sono molto incuriosita Da questo libro Perché Ne parla Ne ha parlato spesso Julie De Mar La trovate Ovviamente Su Youtube E anche su Instagram Che io seguo Da tantissimo tempo E lei spesso Parla di questo libro E soprattutto Consiglia di comprarlo Cartaceo Nonostante così tanto Perché ha Oltre alla trama Dei giochi di inquaginazione Che fanno sì Che il tutto Diventi più Inquietante Smuova di più L'animo Quindi Sono molto curiosa Per questo motivo Altri libri Che vorrei Diciamo Acquistare Sono nella mia Wishlist Amazon Da qualche tempo Ormai Sono due Uno è Fahrenheit 451 Perché è un libro Che mi intriga tantissimo Ho sentito Pareri positivi Pareri negativi Di Ray Bradbury Perché sostanzialmente I pompieri Invece di spegnere Gli incendi Li appiccano Soprattutto per quanto Riguarda I libri Quindi loro Bruciano libri Per insabbiare la cultura E poi ci sarà Il protagonista Che non capisce Perché debbano fare questo E l'altro Invece Non so se ve ne ho parlato Forse ve ne ho parlato Su Instagram Vorrei Approciarmi un pochino Al mondo Delle graphic novel Perché In questo momento Stanno spopolando Ma Io non vorrei Leggerne a caso Perché appunto Non me ne intendo Vorrei leggere qualcosa Di zero calcare Di conseguenza Due ragazze Su Instagram Hanno fatto Questo gruppo Di lettura In cui Ogni mese Affrontano Una graphic novel Due graphic novel A dire la verità Per ogni paese Io ovviamente Non penso Che parteciperò A tutti Però La primissima Che loro affronteranno Ovviamente L'Italia E una delle due graphic novel Che hanno scelto E una di zero calcare Che si chiama Un polpo alla gola Anche questa Non costa Puchissimo Perché comunque Costa 18 euro Vedrò se C'è scontata A dire la verità Quello di Il libro di Ray Bradbury Non costa tantissimo Costa 11,40 Però O forse 12 euro Però va bene La mia wish list Così ve lo dicevo Poi Quali altri libri Io vi consiglio Di prendere Se siete interessati Perché Molto costosi Allora Sicuramente Se siete interessati Di arte Di Architettura Tutto L'ambito Artistico Proprio Vi consiglio Di andare A Vederli In questo Domani Su Amazon Prime Perché I libri Di arte Costano Veramente Tanto Io ne ho Qualcuni Non so se potete Vederli Qua in alto Ecco Vi dicevo Io ne ho Qualcuni E sono Veramente Tutti Molto Molto Costosi Sono Libri Grossi Con Delle Particolari Impaginazioni Cioè Vedete Soprattutto Le stampe Le stampe Devono essere Fatte Molto Molto Bene Quindi Sono Veramente Costosi Questo Il libro Veramente Bello Però Consiglio Si chiama Tutankamon Caravaggio Van Gogh E Costa La bellezza Di 38 euro I libri D'arte Sono sempre Tutti I libri D'arte Sono veramente Sempre Tutti Molto Costosi Quindi Se volete Anche quelli Della Tashen Se volete Andare Ad acquistarne Qualcuno Dateci un'occhiata Domani Poi Altri libri Che vi Consiglio Se Volete Sempre Acquistarli Ovviamente Ragionamento Vale Per tutti Se volete Prenderli Domani Dateci un'occhiata Domani Mercoledì Perché potrebbe Essere Molto Conveniente Non so Quante volte Ho ripetuto Questa Cosa Tardi Io sono Molto Stanca Sono I cofanetti Io ne ho qua Uno Sono i cofanetti Io ne ho qua Uno Che adesso Vi mostrerò Però ci sono Cofanetti Molto più Costosi Adesso Ve ne cerco Uno I cofanetti dovete Essere sicuri Che vi piacciono Cofanetti o saghe Perché altrimenti Rischiate di spendere Tanti soldi E poi magari Non avete mai letto Niente di quell'autrice O di quell'autore Non vi piace come scrive Avete speso Veramente tanti soldi Il cofanetto Che ho qui io È quello di Guerre e pace Volume 1 Volume 2 Questo qua È di Enaudi Ma col fatto Appunto che è un cofanetto Che è stato fatto Con copertina rigida Entrambi i libri Entrambi i volumi Copertina rigida Ovviamente costano sempre Molto di più E Enaudi Li ha fatti anche Con copertina morbida E senza cofanetto Però non so quanto vengano Questo costa 42 euro Quindi se siete interessati Se volete delle belle edizioni Prendetelo Un altro cofanetto Che io Guardo da tanto Costa parecchio Ma non penso Andrò ad acquistarlo Per il semplice fatto Che Non ho mai letto Niente di questa scrittrice E quindi sono un po' Restia A spendere così tanti soldi Il ragionamento Che vi facevo poco fa È La saga dei Casalè Edito Fazzi Editore Questa è la saga Questa qui Ed è appunto Un cofanetto Da 66 euro 66 euro e 40 È scontato Perché in realtà Ne costerebbe 70 Poi Per quanto riguarda Invece Sempre dei libri Ma spostandoci Dall'ambito Puramente Di piacere A quello Più Di convenienza Non saprei come definirlo Vi consiglio Se dovete prendere Dei libri universitari Li guardare domani Perché? Perché i libri universitari Anche uno solo È super dispendioso Vi faccio un esempio Poco fa Ho acquistato Perché mi serviva Il cofanetto Della Norton Ontology Allora Adesso se riesco a prenderli Ve li faccio vedere Questo È Volume D E F Questi tre Sono volume D E F E sono Se non sbaglio Romantic Age Victorian Age 20th and 21st Century Allora Io avevo bisogno Soltanto di questi due Allora Innanzitutto La mole Non è indifferente Pesano tantissimo Ad esempio Questo Ha più di 1200 pagine E anche questo Che è più piccolino A dir la verità Non si sparmia Perché Ne ha ben 975 Io tutti questi tre Libri insieme Perché mi conveniva Gli ho pagati 45 euro Sempre scontati su Amazon Già perché costerebbero 50 Ci sono anche volume A, B e C Che però a me non servivano Perché mi servivano gli anni scorsi Ma avevo trovato Una persona che me li prestava Quest'anno invece Col fatto anche che in università Non ci vado Gli ho acquistati Devo dire che sono molto contenta Perché? Perché sono veramente Dei bellissimi libri Sono super utili E anche se questo libro Quest'anno non mi servirà Perché è il periodo Dell'anno scorso La Romantic Age Sono veramente belli Cioè ci sono dentro Tantissimi autori Che a me sono piaciuti tanto Quindi È sempre bello Tenerseli Non so Io sono fatta così Mi tengo anche i libri Di università Che mi piacciono Non li rivendo Le ho presi Perché Dividendo i 45 euro Per tre ovviamente Veniva 15 euro al libro Guardandoli singoli Li vendevano Effettivamente anche singolarmente Ogni libro costava 28 euro Quindi ovviamente Se dovete prendere un libro singolo Vi conviene di più Prenderlo singolo Però a me ne servivano due Andavo a spendere di più Che prenderne tre Quindi questo è Se vi serve quindi Qualche libro Universitario O scolastico Domani Mi raccomando Dacci assolutamente un occhio Perché potreste trovare Delle super offerte Poi Di altri libri Super dispendiosi Potete guardare Sempre libri Impaginati In modo particolare Ad esempio Obscura Tutti i racconti Di Edgar Allan Poe Questo libro È molto particolare È molto grosso Rispetto a un libro normale Ha questa Ha la copertina rigida Ha le pagine Col bordo nero Costa 25 euro Non è tantissimo Non è tipo Il cofanetto Qua di Guerra e pace Che ne costa 45 42 Però sono comunque 25 euro E potete trovarli Di questo Che mi sembra sia Edito Oscar Mondadori Ha fatto Altri libri Così Ha fatto ad esempio Piccole donne I racconti Di Conan Doyle Di Sherlock Holmes Piuttosto che Guida galattica Per autostoppisti Sono tutti libri Piuttosto costosi Quindi se siete interessati Se li volete In questa edizione Perché è particolarmente Bella Andate a vedere Perché anche quelli Potrebbero essere scontati Io ovviamente Continuo a dirvi Potrebbero Perché non so Effettivamente domani Che sconti ci saranno Su Amazon Prime Però Voi Se siete interessati Potete guardare Stessa storia Vale per questi I Burdeluxe Non sono super costosi Questo che è il più grande Costa 20 euro Però Hanno all'interno Anche qua Delle grafiche Molto belle E potreste Aprofittarne Per il resto Ragazzi Ovviamente Io vi consiglio Se avete Un po' di libri Da prendere Un wishlist Di guardare bene Approfonditamente Perché magari Riuscite a prendere Più libri A un prezzo Molto più basso Rispetto al solito Quindi magari Invece di prenderne Uno soltanto O due Riuscite a prenderne Quattro o cinque Sta a voi Guardare bene le offerte Guardare bene A cosa siete interessati Non fatevi prendere Dal Ci sono gli sconti Compra tutto Perché Non funziona così Mi raccomando Valutate bene Non andate a spendere Soldi A casaccio Con questo Io ho finito A dire la verità Io ho pochi libri In wishlist Sto cercando di Leggere il più possibile Quello che ho in libreria Anche perché Temo mi approderanno Altri libri in casa Di conseguenza Cerco di comprarne Il meno possibile Non so se effettivamente Domani andrò a comprare Dei libri Perché ho altri acquisti Riguardo alla tecnologia Da fare Quindi vedremo un po' Sicuramente Se acquisterò qualcosa Anche Diciamo da due libri in su Vi farò un book haul Andrò a vedere Sicuramente Che sconti ci sono E se sono molto convenienti Allora li prenderò Altrimenti Cercherò di spavolare Un pochino Con questo Io vi saluto Vi lascio come al solito Giù nell'info box Tutte le mie pagine Instagram E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao